però adesso faremo le prime inquadrature gemelle sia della 22 che della 26 alcune sono uguali identiche l'altra scena è praticamente la stessa cosa noi torniamo tu stai davanti stavolta tu scendi Alessio scendevi scambiate la battuta da vicino alla macchina lì basta poi lui ti viene avanti e tu te ne vai Cecilia che hai capito di questa scena che devi fare? devi entrare in macchina e poi scendere 9 maggio e siamo quasi per finire le riprese della mia ti devo dare una brutta notizia tra dieci giorni scade la sicurezza lo so benissimo io odio gli esterni di sera per il semplice motivo che qui stiamo veramente sotto più a poi puoi ripetere tutti i palazzi che ci sono già per il fatto che siamo sotto l'occhio di tutti e in più c'è anche la delusione da parte dell'inquilino che si affaccia stanno girando il film, stanno girando il film poi vedono con cosa stiamo girando il film e richiudono la finestra per displetazione non è che non ci sia per la mia riazioni del film è un secondo campo un altro campo di lei hai un altro tempo non mi è affaccio un attimo Senti siamo al penultimo giorno di riprese com'è stata questa esperienza davanti al regista che devo dire questa facciamola così il card è proprio antipatico bisogna ammetterlo poi non è capace a fare niente proprio questa è la che ti pressa sempre anche se poi te riprenderò da la vedete che esci guarda che non ti sta a prendere in giro ragazze vi fate falla un'altra 22 non si capisce quando parla stesso più o meno asse me la fai un po' blu e tu un po' più spostata perché non sarà più frontale così ma sarà dall'altro farò anche il controcampo della soggettiva nostra di te che esce dal bottone però questa c'è un po' più comico è una prova è una prova girata motore e azione dove si è battuto cazzo dove ero il luca dove ero e falco girino se lo vado e loro siamo avuti qua quindi avrai tutta la macchina è buona buona prima incredibile 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 inizio universale volge il termine manca ovviamente poche ore di lavoro purtroppo spammate sempre in dieci anni è un film che racconta appunto dell'improbabile storia no la storia probabile di un giovane che vuole spatriare e va un po' dalla padella da braccio visto che in spagna insomma non stanno passando periodi migliori del nostro però è la passione che lo muove la passione verso la musica flamenco che lo muove verso la spagna e si ritrova questo padre diciamo molto come si può definire il termine oh sveglia pittoresco pittoresco ecco mi hai tolto la parola di bocca e non si sa perchè a questo figlio ci risulta così impossibile perchè si ritrova una donna del genere mio padre Cecilia Cecilia l'attrice e Cecilia personaggio non ci siamo spruciuttati più di tanto a cercare il momento perchè ha proprio la faccia da Cecilia Cecilia Carponi tenetela d'occhio ecco a tutti ragazzi siamo a Siviglia oggi è 16 anzi è 17 perchè sono le 2 di notte e qui sotto c'è un locale molto figo come potete vedere dal centrisimo di Siviglia e siamo qui perchè un po' per conciliare l'utile al direttevole cioè piccola vacanza ma piccola vacanza anche lavorativa visto che stiamo girando alcuni pezzettini dei giudizi universali che saranno prevalentemente per il finale del film per la parte finale del film o addirittura per i titoli di coda per il mini diario finale vi mostriamo anche un po' di città oltre che pezzi del film un bacio a tutti tanto esperare di abbandonare la pazienza di tanto ricordare se va cavando la inocenza il 18 giugno e qui c'è una mega struttura pazzesca dove dentro c'è un museo c'è un mercatone gigantesco c'è una vista pazzesca su tutta Siviglia e vedete che la struttura è veramente veramente originale adesso forse non si può neanche vedere e stanno probabilmente trasmettendo la partita Spagna-Croazia un grande perfetto un grande perfetto e niente tra le varie bellissime cose ci sono a Siviglia che non abbiamo trovato difetti né nelle strade né nei posti e niente di niente effettivamente di musica non è che ci sono vari concerti comunque eccoli qui vedete gente che noi non conosciamo almeno io non li conosco poi c'è questo Manolo Garcia che credo sia un suonatore di flamenco poi direttamente dalla Puglia abbiamo qua il sole abbiamo Albano Garrisi di mort***a che canta l'Italia cosa c***o canta Italia Albano Garrisi a Siviglia maledetto hai soledades spierta che te trage il sol con clarità lo vemos de otro color no por caer voy a dejar de camminar hai soledad despierta ya perché hai scelto Siviglia per questo film? non ho scelto Siviglia per questo film ho scelto un film dove il protagonista sceglie il flamenco come meta di destinazione della sua vita io ho trovato il flamenco e ancora più ignorante di Spagna in assoluto quindi è stato tutto molto molto casuale io non sono appassionato di flamenco però lo vedo come una cosa molto passionale quindi la passione nella passione mi sembrava un po' assurdo scrivere e girare un film che parlasse di Siviglia in continuazione nonostante fosse sempre uno e mi sembrava assurdo che l'autore in questo caso io fosse completamente sprovvisto di Siviglia, di Spagna, di flamenco e tutto quindi siamo venuti a vedere anche il flamenco finalmente è stata una bellissima esperienza un'ora un'ora buona di spettacolo di un chitarrista o una cantante o una ballerina e se c'è una gara che era più brava signor e signori e benvenuti al museo del rai del flamenco Cristina Oroco questo è il primo e unico museo del rai del flamenco che esiste nel mondo visto poi nel spettacolo serale del museo di Siviglia un ufficiale di Siviglia Città strebillosa adesso abbiamo visto di persone e vi posso assicurare che non basterebbe neanche un mese di riprese fatte bene centillinate per rendervi un attimo l'idea dell'atmosfera che si respira qui L'usco di mare sei in diretta tv sei in diretta tv grazie mille io perchè ho scelto Siviglia? perchè devo prendere a polo mi piace la siviglia bella guardia a preno però si sta bene la sera che c'è la partita della Spagna insieme all'Italia è ancora meglio perchè i ristoranti non ci sono gli italiani e non ci sono gli spagnoli cacciacolini e li sentiremo dopo però al tappo si mangia la paura perchè c'è l'Italia lui ci dice che l'Italia vince 1 a 0 però il regista questa notte non può fregare di meno frega neanche alla camera in Spagna va 0 a 0 0 a 0 0 a 0 se rivediamo ora a Roma ciao il microfono che non funzionerà mai sa sa il microfono non funzionerà al giorno quindi non deve funzionerà eh certo invio eh cioè me lo stai a chiede o me lo stai a dir te lo sto dicendo eh no qua me prendi per il culo te lo sto a dir ok ok fai invio cioè me lo stai a chiede o te lo sto a dir o me lo stai a dir però mentre lo sto a dir cioè me lo stai a chiede o te lo sto a dir invio così tra il serio e il fascino hai capito? ok senza troppo ridere però ridi un po' di me cioè ok aspetta e vai la eh no no quando dico aspetta tu fai hai fatto il gioco così eh troppo davvero sei un po' più rilassata lì troppo davvero via oh massimo ma vabbè ma vabbè no 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 test off 5 e 4 ora ok fammi uno spot al volo dell'arancia rossa posso? uno spot al volo dell'arancia rossa inquietudine a questa scena eh vuoi che tua moglie faccia la mossa? bevi l'aranciata rossa ahahahahah se poi invece sta male dagli un goccetto d'acqua minerale ahahahahah ahahah ahahah va bene va bene a posto abbiamo visto il film ahah ahah ma cazzo vogliamo dire a tutti studio ecco la viene ecco se lo fa leccia leccia si yes dopo le cazzate di grutto fantassi e quindi l'aereo che si spezia fatto male alla età degli altri non so abbiamo visto non so cazzo non so non so non so Grazie a tutti